Dopo l'esordio con The Abyss, dedicato al nuoto artistico, nel parco di Villa Calcaterra la prima rassegna cinematografica sportiva sotto le stelle di Busto Arsizio prosegue con altri due appuntamenti. Martedì 27 giugno avremo una pellicola dedicata al basket, Glory Road, su una stagione epica dei Texas Miners, la prima squadra completamente di neri che ha vinto il titolo universitario negli Stati Uniti nel 1966. Dovremmo avere il relatore Mario Castelli, che è la voce del basket su Eurosport. Chiudiamo il 4 di luglio con Il Campione, che è un'opera prima di Leonardo D'Agostini, che è anche un nastro d'argento nel 2019, con Stefano Accorsi, dedicato ad una storia disfunzionale del calcio italiano di oggi.